Ciao, sono Simon, siamo qui ad Hunsville al cimitero, a fianco alla tomba di il signor Stullinger che era uno dei personaggi più importanti al fianco di Werner von Braun e partecipò alla corsa allo spazio contro la Russia e siamo qui appunto a vedere la sua tomba. Ciao, queste che vedete intorno a me sono alcune tombe dei colleghi di von Braun che hanno partecipato alla corsa allo spazio, ognuno di questi uomini ha costruito una parte essenziale per assemblare un razzo e sono un esempio di due valori che sono diventati fondamentali per la NASA che sono integrity e teamwork, infatti anche dopo la morte sono raccolti insieme in un gruppo di tomba che vedete contorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.